Un giorno, oggi è un giorno di dolore e di preghiera, è un giorno in cui ciascuno di noi si sente francese, ciascuno di noi si sente parigino, ma è un giorno in cui le lacrime non bastano ed è la ragione per la quale abbiamo riunito questa mattina il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, il cui esito ho già avuto modo di comunicare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nostra considerazione è che stiamo vivendo la drammatica storia di governi e popoli in lotta per la libertà, minacciati da chi pretende con la violenza di affermare l'esistenza di uno Stato cancellandone altri. Stiamo vivendo la storia anche della megalomane ambizione di un uomo che si pretende califo e della folle corsa di migliaia di giovani europei che credono di poter purificare la propria anima uccidendo in nome di Dio, un Dio che mai avrebbe consentito questa barbarie. Come abbiamo sempre detto, nessun Paese è a rischio zero. Oggi abbiamo ulteriormente rafforzato questo concetto e abbiamo considerato accresciuta la minaccia e l'abbiamo considerata significativa, ancorché non sorretta da elementi specifici e concreti di iniziative in corso. Questa notte sono stato costantemente in contatto con il Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Alessandro Panza, sono stato in contatto ovviamente con il Presidente del Consiglio e abbiamo immediatamente elevato il livello di allerta nel nostro Paese. L'abbiamo portato al secondo livello che consente l'assetto operativo dei reparti speciali delle forze dell'ordine con la possibilità di intervento immediato e con la possibilità del coinvolgimento delle forze speciali militari. Nei primi istanti dopo il fatto di Parigi le questure di Roma, Milano e Torino hanno avuto indicazione di implementare i controlli sul territorio e nelle ore successive abbiamo diramato un'apposita circolare che ha esteso in tutta Italia questa richiesta di incrementare le attività di prevenzione e controllo del territorio. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo è riunito in permanenza, è un comitato che fa stare insieme gli elementi dell'antiterrorismo delle forze di polizia e dell'intelligence, mettono a fattore comune tutte le informazioni di cui disponiamo, sia quelle di fonte interna sia quelle che vengono dalla cooperazione con gli altri Paesi, è attualmente riunito. Durante la riunione del Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica contemporaneamente si svolgeva la riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il nostro lavoro ha alla base dei risultati. Alla base dei risultati perché non sarebbe sufficiente dire quello che ha fatto oggi il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica se non dicessimo i risultati delle attività di prevenzione che è stata realizzata fino ad oggi. Perché è vero che nessun Paese è a rischio zero ed è altrettanto vero che fin qui il nostro sistema di intelligenza ha funzionato. Dall'inizio di questo anno solare, quindi dal 1 gennaio del 2015, sono state 540 le perquisizioni effettuate su soggetti che avevano in un qualche modo a che fare con il terrorismo. Le persone controllate dall'inizio dell'anno sono 56.426. Le persone arrestate sono 147. Le persone indagate sono 325. Le persone espulse dal territorio nazionale o respinte alla frontiera per mancanza dei requisiti di ingresso sono 259. I veicoli che abbiamo perquisito e controllato sono 8.493. Poi c'è il capitolo espulsioni di estremisti islamici. Siamo arrivati a 55. Ancora questa mattina, come avete saputo dalle informazioni di stampa, un'altra espulsione si è verificata. I nostri sforzi fin qui sono stati premiati. Quello che è caratteristico e tipico dell'attività di prevenzione è che non c'è la prova contraria. Cioè si agisce, si agisce per evitare, si agisce per prevenire. È un lavoro grigio, faticoso. Giorno e notte al lavoro le nostre donne e i nostri uomini in divisa e quelli delle agenzie di intelligence per far sì che un evento non si verifichi. Fin qui ce l'abbiamo fatto. Abbiamo riunito il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica per ridurre il coefficiente di rischio. Ebbene che noi tutti sappiamo che lo sforzo di prevenzione non è destinato con certezza a eliminare il rischio, è destinato a diminuire il coefficiente di rischio, a fare sì che si possa scongiurare un evento drammatico. Quanto successo a Parigi dimostra come la drammatica cronologia del terrore non ha una sua sequenza ordinata. A volte la redazione di un giornale satirico in questo caso è stato uno stadio. In questo caso sembrano anche rompersi alcuni paradigmi di lettura degli eventi terroristici dei mesi e financo degli anni passati. Voi avete assistito e avete commentato dal museo del Bardo alla spiaggia di Sus, da Parigi a Copenhagen, da Bruxelles a dieci anni fa Londra o Madrid. Ecco, spiagge, luoghi di culto, metropolitane, maratone a Boston, oggi a Parigi uno stadio. Questa è la cronologia del terrore che non ammette un bis dal punto di vista simbolico. Ricorderete che ci fu un allerta altissimo dopo Charlie Hebdo riguardo i luoghi di culto ebraici, ci fu un allerta altissimo riguardo i luoghi dove la libera stampa e la libera informazione esprime il proprio pensiero. Potete notare come è cambiato immediatamente lo schema. Ho fatto questa considerazione per dirvi quanto sia assolutamente chiaro che il nostro obiettivo è quello di controllare il più possibile senza concentrarci su un aspetto e su un elemento che potrebbe assolutamente essere smentito da un evento successivo. Ecco perché abbiamo assunto due decisioni fondamentali, un rafforzamento straordinario dei controlli sul territorio e un rafforzamento dei controlli alla frontiera. Abbiamo rianalizzato e validato ulteriormente i protocolli operativi per l'eventuale emergenza di attacchi terroristici. Abbiamo lavorato su questo anche durante il comitato nazionale che si è concluso poco fa. Abbiamo rifatto lo schema di funzionamento, lo abbiamo rivisto senza modificarlo perché lo abbiamo rivalidato, di un paese, di una grande democrazia come l'Italia che si deve tenere pronta per un qualsiasi evento e deve avere dei protocolli operativi già studiati, analizzati, rivalidati e convalidati per l'eventualità tragica di un evento come quello di Parigi. Abbiamo dato impulso ai nostri prefetti, a tutti i prefetti d'Italia di convocare immediatamente i comitati provinciali per l'ordine e sicurezza pubblica per adeguare le misure di prevenzione e di vigilanza degli obiettivi sensibili. Quindi qualcuno lo sta già facendo in queste ore, qualcuno lo ha già fatto, altri lo faranno nelle prossime ore. Vogliamo in pochissime ore un report con la rete capillare delle nostre prefetture che ci dica se c'è qualcosa sui singoli territori che cambia dal punto di vista dell'analisi delle forze dell'ordine a livello locale, quindi un vestito di sicurezza tagliato su misura e non un abito che va bene per tutte le province d'Italia e che ci facciano sapere dunque cosa è cambiato prima e dopo questo drammatico evento della notte tra il 13 e il 14 di novembre. Abbiamo reso immediatamente operativa, al di là dello stanziamento di uomini già previsto, la disponibilità di 700 militari per Roma. Il prefetto, che non è il totale, è un anticipo su quanto avevamo già stabilito di destinare. Il prefetto di Roma ha fatto questa mattina riunione di coordinamento delle forze dell'ordine in prefettura e tutti i servizi a Roma sono attivati con il massimo dell'allerta. Del resto avevamo dedicato esattamente al giubileo il 3 novembre un comitato nazionale i cui esiti erano stati molto concreti, molto chiari, con delle direttive specifiche che abbiamo impartito alle forze dell'ordine e al tempo stesso con una serie di iniziative che su otto ambiti il prefetto di Roma coordinerà. L'altro aspetto della nostra decisione riguarda i controlli alla frontiera. Abbiamo già dato indicazione di rafforzare i controlli alle frontiere, con particolare riferimento alla frontiera con la Francia. Siamo in connessione permanente con i nostri interlocutori francesi per una vigilanza strettissima per un controllo fortissimo delle frontiere con la Francia perché evidentemente sono in corso delle misure da parte delle autorità francesi e noi collaboriamo perché non si verifichino dei transiti che possano dare un danno alle indagini in corso e assolutamente delicate di questi momenti a Parigi e in Francia. La stessa cosa però faremo su tutti i valichi di frontiera sia per quanto riguarda le strade, le ferrovie, i porti e gli aeroporti. Quindi l'altra decisione del Comitato Nazionale è di rafforzare i controlli alle frontiere. Questo è il modo di lavorare di una grande democrazia che crede nella libertà, che si batte per difenderla e che fa parte di una grande coalizione che fin dalla caduta delle torri gemelle difende la libertà attraverso la lotta contro il terrore. Vi ringrazio.